Ciao, e ora sto video qua, intanto per dire scusa che sto di qua sto scomparsa, ma zero dovevo dormire perché zero finì a me venì, ecco, ieri sera avevo fatto la notte quasi in bianco a vedere i numerini che cambiava e stamattina dopo sono andata a dormire perché avevo l'intervista di Rete Veneta, quindi sono andata a Villa Orba, sono tornata in io, cioè, ciappavo solo mentre mangiavo, sono andata a dormire insomma, e dopo si entra a rento Facebook, portato tutto quanto, tutti i messaggi, e ora come se eccetera eccetera, e ora, intanto, grazie perché si stai fantastici, 800 preferenze se una montagna, 800 persone che scrive il tuo cognome, internalista che tra l'altro fa pochi numeri percentuali se una montagna, una montagna di fiducia, perché veramente sono rimasta strabilià, e sono credo la seconda in assoluto dentro la lista indipendenza noi Veneto, in tutto il Veneto e credo la prima donna come preferenza, quindi mi sono contentissima, veramente mi megavidana, soddisfazione pazzesca, non c'è che, purtroppo, non c'è che i primi do che fa più preferenze entra per forza, che c'è un algoritmo, per cui i consiglieri c'è anche distribuiti in altre province, quindi probabilmente non entraremo né mi né Antonio Guadagnini, che c'è sta bravissimo, Gaccia fa 1043, mi sembra preferenze, quindi se sta quello che Gaccia fa dei P, però non entraremo né mi né lui, ma questa cosa qua, non c'è che l'indipendenza la si ferma, perché non entra la Brunelli nel consiglio regionale, l'indipendenza la va avanti, che ne c'è molto di roba da fare, ghemo da farle fate puito, quindi soprattutto ghemo da farle insieme, se noi altri capimo che facendo le robe insieme, facciamo i numeri grandi, facciamo il botto, quindi grazie di tutta la fiducia, mi sono veramente contenta, e detto questo, sempre avanti, ok? Grazie, ciao, e adesso vado a dormire perché sono stanchissima, ciao!